Un saluto a tutti carissimi amici bentornati per questo nuovo video ci siamo ci siamo ci siamo siamo in compagnia con un altro dispositivo Sonoff che si va a freggiare di questo nuovo bollino di questa nuova etichetta Elite bene avevamo già visto qualche giorno fa il Sonoff TH Elite quindi sensori di temperatura e umidità vi ricordo che ho girato un video per quest'altro di questo dispositivo che potete andare a guardare vi metto qui il link in alto alla mia sinistra e in alto alla vostra destra e oggi è il turno del Sonoff O il dispositivo Power Meter della famiglia Sonoff che giunge oggi alla quarta incarnazione oggi per la verità è stato presentato esattamente ieri da Itiad è comparso sul sito Itiad e oggi quindi andremo a vedere sul mio banco da lavoro un pochino le novità rispetto alle versioni precedenti quindi nuova gamma di prodotti Elite insomma che vanno a raggruppare un pochino tutti quei dispositivi un pochino più ricercati con caratteristiche tecniche un pochino sopra 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 la media come abbiamo visto con il Sonoff TH e che quindi insomma si freggiano di questa nuova etichetta quindi cos'è avrà di così diciamo importante questo nuovo Sonoff Po per essere etichettato come Elite bene se siete curiosi seguitemi e andiamo insieme a vedere di cosa si tratta ma prima vi ricordo di iscrivervi a questo canale quello non l'abbete già fatto per essere avvisato ogni qualvolta il nuovo video viene caricato fate anche tap sulla campanina delle notifiche e scegliete tutte le notifiche altrimenti non verrete avvisati naturalmente ogni volta che un nuovo video viene caricato vi ricordo anche di andare a far visita al nostro blog all'indirizzo www.vincenzocaputo.com dove c'è un articolo di approfondimento su questo nuovissimo dispositivo sul Sonoff Po dove potete trovare tantissimi dettagli interessanti oltre che quelli che andrò a sviscerare un pochino nel video e poi tantissimi altri articoli scritti da me e da Luigi Duchi e poi ci trovate un pochino su tutti i canali social basta fare una piccola ricerca come Vincenzo Caputo trovate tutto bene seguitemi ed eccolo qui ragazzi il nostro Sonoff POW attaccato collegato funzionava una volta funzionava speriamo che funzioni ancora collegato già alla nostra morsettiera di distribuzione di fase e neutro come al solito vedete la morsettiera è veramente identica a quella del Sonoff TH ma magari non avete guardato quel video quindi andiamo a riassumere abbiamo neutro sia in ingresso che in uscita questi due morsetti sono ponticellati all'interno quindi è indifferente che colleghiate il neutro su una sull'altro l'altro sarà disponibile come neutro in uscita fase in ingresso L in e L out fase in uscita infatti vedete che ho collegato un portalampada con una lampadina con la fase in uscita e il neutro dall'altro lato diciamo l'altro polo del portalampada chiedo sempre scuse per il mio portalampada perché ha tutti e due i conduttori di colore marrone in realtà come ben sapete la fase dovrebbe essere di colore marrone e blu dovrebbe essere di colore del neutro e quindi in questo caso diciamo sono tutte e due marroni vabbè amen pazienza come vedete c'è anche questo coperchietto che va a coprire la morsettiera insomma per una questione di sicurezza perché i morsetti esposti tendono diciamo ad essere sempre un pochino pericolosi va perché qualcuno ci può mettere le dita insomma è meglio è meglio coprirli una volta che avete effettuato i collegamenti come vedete nella parte alta abbiamo i led di stato che stranamente rispetto al sonoff th che sembravano spenti in questa versione di questo sonoff po sono belli evidenti e si vede che sono accesi insomma rispetto all'altro dispositivo che ho provato qualche giorno fa ve l'avevo fatto notare bene tastino fisico che serve naturalmente ad attivare il carico collegato e serve anche tenendolo premuto a fare il reset o insomma le operazioni di pairing display a bordo come vedete il display proviamo ad accendere il carico ecco qui intanto vi devo far notare che switcha ecco qui qui abbiamo per alcuni secondi la visualizzazione ecco qui del voltaggio quindi 225,7 volti in ingresso e poi switcha sul consumo quindi 8,5 watt di consumo e viceversa vedete fa un pochino un pochino da un lato un pochino un pochino dall'altro per mostrarci tutte le informazioni supporto anche per questo dispositivo alla barra DIN tramite questo adattatore che può essere tassellato a muro tramite questi fori oppure attaccato a una barra DIN quindi possiamo tranquillamente diciamo fare un'installazione da quadro del nostro sonoff p o w andiamo a spegnere la lampadina quindi come vedete legge correttamente i consumi della della nostra lampada prendiamo rapidamente la confezione per andare a vedere velocemente quelle che sono le impostazioni quelle che sono le caratteristiche salienti e anche qualche caratteristica tecnica bene naturalmente abbiamo il controllo remoto adesso andremo a vedere trante la classica applicazione che utilizzano tutti i soft l'applicazione e we link power metering in questo caso naturalmente potrà quindi leggere i consumi del carico collegato e archiviarli anche per sei mesi se non ricordo male all'interno dell'app we link e potremo anche scaricarli ma ora andremo a vederlo sull'applicazione direttamente protezione contro i sovraccarichi e andremo a vedere anche quello condivisione con altri account e we link voice control compatibilità con i principali assistenti vocali possibilità di schedulare quindi di creare delle dei timer per l'attivazione disattivazione controllo tramite lan anche quindi funziona anche in lan se non c'è internet e in king moda anche questo è un'opzione che è cambiata su questo dispositivo rispetto a quella classica che abbiamo utilizzato fino ad oggi ma adesso andremo a vedere questa versione del power meter di sonoff e a 16 ampere ma ne esiste una versione a 20 ampere connessione classica 2, bgn 2,4 gigahertz wifi mi sembra che non devo dire tanto di altro se non che andare a dare subito un'occhiata all'applicazione e we link quindi andiamo ad aprirla eccoci qui sull'applicazione we link abbiamo qui in alto in alto in alto in altro il nostro sono po r3 16 di chiamato chiamato r3 ma in effetti e a tutti gli effetti un r4 perché l'r3 abbiamo visto che passato l'abbiamo già recensito l'ha recensito luigi duchi e sicuramente insomma gli appassionati di questo canale youtube l'avranno visto naturalmente qui il pulsantino virtuale per accendere e spegnere il carico proviamo a riaccenderlo vedremo che c'è subito entro pochi istanti ecco qui iniziano ad apparire i dati sui consumi sempre gli 8,41 watt se entriamo entriamo all'interno possiamo scendere nel dettaglio facendo continua a leggere ecco qui qui vediamo che possiamo leggere l'assorbimento corrente 0,6 ampere il voltaggio 222,35 volt e i watt correnti quindi 8,41 watt poi sopra invece abbiamo il riassunto degli assorbimenti quindi i kilowatt ore i watt ore i kilowatt ore chiedo scusa consumati nella giornata di ieri i kilowatt ore consumati nella giornata di oggi e quelli nel mese corrente naturalmente qui sotto compare anche un grafico dei consumi qualora insomma abbiate uno storico dei consumi nel mio caso perché lo sto utilizzando per la prima volta in questa video recensione quindi vedete che i consumi sono praticamente il grafico praticamente è assente ma quello che vedete sotto insomma è un grafico dei consumi vedete la con la freccettina in alto a destra provo a cliccarci adesso ecco qua ci permette di scaricare come vedete il grafico dei consumi relativo al carico collegato a questo sono po in formato xlsx quindi un grafico di excel esattamente come avevamo visto anche col sonoff th col sonoff th elite in basso abbiamo i classici orario timer e timer ciclico insomma per gestire tutte le attivazioni in base orario e poi andiamo un pochino nelle impostazioni perché c'è qualcosa di interessante che vi devo mostrare intanto c'è la segna posizione che naturalmente assegna una posizione in una camera virtuale operazione insomma abbastanza banale e comune a tutti i dispositivi sonoff il condividi l'avevo già detto con altri account e we link e poi c'è freeshow settings penso di averlo spero ho pronunciato bene freeshow vediamo di cosa si tratta ecco qui qui ci dice che ci avverte ci avverte che una qualsiasi di queste condizioni il device sarà sarà spento quando si verifica una di queste condizioni quindi facciamo d'accordo a cosa serve serve impostare delle soglie al raggiungimento delle quali il dispositivo si spegnerà quindi possiamo mettere non so power max se la soglia verrà raggiunta la soglia di assorbimento di 4000 watt il dispositivo si spegnerà naturalmente possiamo entrare all'interno di questa ecco qui questa soglia e cambiarla possiamo mettere 3000 2000 quello che ci piace oppure il contrario power minimo quindi quando scende sotto una certa soglia oppure possiamo andare sul voltaggio e soglia massima e minima anche in questo caso oppure sulla corrente quindi sugli ampere quindi un l'amperaggio massimo che farà scattare farà spegnere il dispositivo decisamente interessante come impostazione possibile reset consumption anche questa spero di averla pronunciata bene sto diventando di un inglesismo proprio spettacolare grazie grazie basta applausi e naturalmente serve a resettare tutti i consumi quei grafici che vi ho fatto che vi ho mostrato prima notifica push anche in questo caso interessante perché possiamo avere ricevere una notifica sul nostro smartphone quando vengono raggiunte delle soglie quindi questa è la soglia mensile e questa è la soglia giornaliera consumo energetico giornaliera today torniamo indietro abbiamo naturalmente i registri di tutte le operazioni che sono state fatte indicatore di rete stato accensione questo è praticamente lo stato a cui lui deve tornare dopo che c'è stata un'interruzione elettrica quindi nel ritorno della corrente si deve accendere deve stare spento o deve ripristinarsi all'ultimo stato e poi impostazioni inking questo è interessante ve lo volevo mostrare ora non so se è una peculiarità di questo dispositivo o verrà implementata questa opzione in tutti i dispositivi le impostazioni inking abbiamo imparato chi è pratico del mondo e we link che servono a cosa linking sempre servito con un'auto come auto off infatti se andiamo ad accenderlo impostiamo questa storia di 5 secondi e lasciamo questo auto off vediamo che se lo accendiamo non succede nulla perché non avevo fatto salva ecco qui l'accendiamo dopo mezzo secondo si spegne ecco qui non fa neanche in tempo ad accendere la lampadina in questo caso l'abbiamo sempre usato in questo modo per la prima volta vedo che può essere usato anche al contrario quindi in auto on quindi faccio salva lo utilizziamo al contrario ecco qui dopo che l'abbiamo spento lui dopo mezzo secondo si riaccenderà eccolo qui in automatico quindi per la prima volta troviamo come impostazione di inking sia l'auto on che l'auto off non so a cosa possa servire non mi viene veramente in mente una situazione in cui può servire riaccendere magari voi nei commenti andrete a scrivere qualcosa di particolare di interessante che vi viene in mente insomma per poter utilizzare questo tipo di impostazione comunque è sicuramente positivo che ci sia perché ci dà una possibilità in più bene 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 quindi per quanto riguarda la parte ewe link diciamo che abbiamo mostrato tutto nell'applicazione niente vi devo dire che questo dispositivo è stato aggiornato come tutti i dispositivi di ultima generazione della famiglia sonoff ma non solo un pochino tutti i produttori si stanno aggiornando le piattaforme hardware dall'esp 8266 all'esp 32 bene questo il primo vantaggio che ci dà è quello subito la prima cosa che vi accorgerete che quando andate a fare l'abbinamento sull'app ewe link potete potrete utilizzare il bluetooth anziché la vecchia modalità tramite wifi che è molto più comoda e rapida per fare pairing all'applicazione oltre questo naturalmente aumenta la memoria interna aumenta la velocità del processore sono più veloci sono più reattivi insomma hanno prestazioni nettamente superiori e quindi 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 sicuramente positivo vediamo che la peculiarità di questi dispositivi che si freggiano di questo marchio elite sembra essere la presenza del display lcd fisico insomma che ci permette con un colpo d'occhio di monitorare le funzioni del dispositivo senza dover accedere allo smartphone e sinceramente diciamo in un quadro elettrico questi dispositivi montati uno accanto all'altro fanno 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 la loro porca figura diciamolo diciamolo veramente veramente bello bene vi faccio prima di lasciarvi vi do un anteprima dei prossimi video sempre legati alla famiglia sono visto che state guardando questo video a breve faremo una prova completa del nuovissimo sono zigbee bridge e di cui naturalmente non vi svelo nulla perché sarà oggetto dei prossimi video bene 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 ebbene grazie amici spero che anche questo video vi sia piaciuto prodotto veramente interessante questo nuovo sono po 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 mi viene lo nomino così p o w diciamo così così magari è un pochino più esplicita insomma questa dicitura e niente niente vi ringrazio per il quadro di video se vi è piaciuto naturalmente mettete un like condividetelo su tutti i vostri social preferiti veniteci a fare vista su facebook su telecom su instagram un pochino dappertutto è veramente tutto 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 da matera un saluto da vincenzo al prossimo video ciao